Gran bel successo a Ponte San Giovanni per la prima edizione della Ponte Night Run, una gara spettacolare e emozionante che ha visto tanti podisti cimentarsi sui 10 km di un percorso cittadino lungo un tracciato di 2000 metri da ripetersi 5 volte. La soddisfazione poi di aver visto trionfare proprio l'idolo del quartiere, Francesco Mariani dell'Atletica, il Colle, con il tempo di 33 minuti e 24 secondi, precedendo Omar Fichi della 2 Spoleto e Cristiano Tomassini della Ternana Marathon. Tra le donne, trionfo per Simona Santini del Circolo Minerva, con il tempo di 36 minuti e 55 secondi, precedendo la compagna di squadra azzurra Ilari e Federica Poesini della Tiferno Runners. Sono stati 168 gli atleti al traguardo e tra le società a successo dell'Atletica Avis Perugia. Il percorso era stato correttamente misurato in previsione dell'edizione del 2024, nella quale verrà omologata come gara Fidal sui 10.000 metri, presentandola come una gara nazionale. Il programma della serata, promossa dall'Atletica Il Colle e della Podistica Volumnia, è stato piuttosto articolato. Con gare di atletica leggera per bambini e ragazzi e la presenza lungo le vie cittadine della marching band Funco a tanto basta e l'esibizione del teatro Rinno Ceronte che ha presentato letture ad alta voce in via Manzoni. Come hanno ribadito Raffaele Bottoloni e Samuele Moretti, i presidenti della Podistica Volumnia e dell'Atletica Il Colle, questa è stata un'edizione zero ma con l'impegno propuso gli organizzatori per creare le basi per farsi che diventi un 10.000 di riferimento per l'intero movimento podistico non solo regionale. Grazie a tutti.